Eleonora, buongiorno, benvenuta a Reggio. Grazie. Emilia, ci pichiamo, dai, perché non si sa mai. E poi li dovrai legare. Eleonora, da dove vieni? La Mantua. Ah, beh, dai, hai fatto un viaggetto, insomma. Sì, un viaggettino. Sei pronta per questa esperienza? Eh, sì, bisogna fare, dopo il Covid, almeno una volta nella vita bisogna fare. Giusto, una botta di vita, bro. Bene, quindi sei carica, andiamo a divertirci allora. Va bene, quindi ti vedrò sorridere, mi auguro. Spero di sì. Puoi anche urlare se vuoi. Lascialo giù l'imbrazione. Ti autorizziamo, fa tutto lui, tu rilassati, goditi il momento. Non mi è mai capitato. Fatti coccolare. Allora Eleonora, ti lascio con Lorenzo che finisce di imbragarti per bene e tra pochissimo noi ci vediamo in aereo. Grazie. Buon divertimento. Grazie. Matti, come siamo noi? Terzi. Dopo di me. Dopo di me? Sì. No, ma mettersi davanti che così ci sono loro. Sì, che non ti ha sentito, perdona. Ok. Ok. Grazie per la visione! Grazie! 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 Ciao! Ciao! Bravissima! Brava, Ele! Bellissimo! Stupendo! Ti sei divertita, eh? Sì, tanto! Bene! Sei contenta! Ok, sei liberata! Bella esperienza, insomma! E poi siete bellissimi in aria! No, no! No, no! 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 No!